questo nuovo video dove oggi voglio parlare di un corso di fotografia prologo melendugno provincia di lecce è un corso di fotografia questa è già la quarta edizione come funziona e come bisogna fare per iscriversi tutto quello che c'è da sapere subito dopo la sigla eccoci qui di nuovo insieme oggi vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere su questo corso di fotografia ma prima di iniziare come sempre vi ricordo iscrivetevi al canale attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta che l'occhio sguardo inserisce un nuovo video e detto questo iniziamo come provincia di lecce per la quattro edizione corso di fotografia base da da questo corso si riesce ad imparare come muoversi con la macchinetta fotografica e anche per chi non ce l'ha è aperto a tutti è aperto ai ragazzi e adulti quindi possono partecipare davvero tutti come funziona bisogna iscriversi a soli 15 euro e 15 euro mensili questo non è un corso professionale e voglio chiarire questo punto è un corso per imparare a fotografare quindi un corso base si esce da questo corso dove si si è imparato a fotografare quindi a capire a muoversi con la fotografia nel manuale e soprattutto dove si può veramente fare tanto oltretutto oltre alla teoria perché comunque c'è la teoria c'è sempre e c'è molta molta pratica uscite fotografiche quindi nei posti più belli delle vicinanze quindi dei paesini piccolini nella zona di lecce quindi chi si iscrive veramente ha una possibilità immensa la prologo melendugno ottiene la pagina ufficiale facebook dove ci sono tantissimi aggiornamenti anche sul corso di fotografia base non solo ma soprattutto tanti aggiornamenti anche su altri su altre cose quindi è molto importante tenertelo tenerlo sempre sotto occhio inoltre oltre la pagina prologo melendugno quindi quello ufficiale della prologo la prologo melendugno una pagina ufficiale anche dei corsi dedicata solo ai corsi di fotografia che organizza perché ne fa tanti diversi diversi tipi dei smartphone della macchinetta tanti 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 quindi questo è quello diciamo da tenere sotto occhio per chi è interessata ai corsi di fotografia perché ci sono un sacco di aggiornamenti ogni giorno oltre in questo caso quello attuale che che sto diciamo di cui sto parlando quindi tenete sempre presente sotto occhio questo perché tantissimi aggiornamenti ogni giorno detto questo vi aspettiamo prologo melendugno per il corso di fotografia quindi ciao a tutti da oltre lo sguardo